ok amici eccoci qui ancora al my special car in compagnia di mestieri christian bravo christian complimenti per la macchina che macchina è una seti pizza del 98 seti pizza del 98 colore camaleonte camaleonte bellissima viola che sfuma con l'oro e all'interno che interna di che colore sono rossi e gialli sei romanista no pensavo togli la curiosità perché i girasoli ha già pensato la moglie la coreografia guarda hai una macchina veramente bella ma dimmi una cosa che fanali sono questi quelli dell'alfa 159 alfa 159 del brera 159 ho capito bellissima risa i cerchi che cerchi sono quelli del porsche del porsche venite a vedere cerchi del porsche montati su una seti pizza andiamo a vedere ok amici guardate attentamente porsche questa macchina non è una porsche però i cerchi sono della porsche bellissimo bellissimo vieni qua vieni qua ma senti ma per adattare i cerchi della porsche a una seti pizza cosa bisogna fare è stato fatto un adattatore che scambia da quattro fori originali dell'ibisa ai cinque fori del porsche che ha un mostro da 130 ho capito e ali a livello di pinze che pinze abbiamo qui ogni competizione sei pompanti sei pompanti proprio roba da pista pista guardate guardate attentamente guardate il disco bellissimo che disco è sempre degli omni competition da 380 di diametro 380 di diametro bellissimo rende spettacolare andiamo a vedere gli interni ok ragazzi allora eccoci qui cristian facciamo vedere gli interni rossi e gialli bellissimi vediamo un monitor pazzesco da quanto è 15 e 4 15 e 4 poi abbiamo abbiamo un dispositivo radio tv dvd mp3 eccetera lì cosa abbiamo delle planche degli interruttori che servono a cosa si a comandare le sospensioni pneumatiche impianto stereo dai facci vedere le sospensioni pneumatiche dai attenzione perché usa il telecomando questa è la bella cosa l'abbiamo vista anche questa mattina devi vederla però davanti prima e poi dietro ho capito va bene allora innanzitutto facci vedere il dietro così è tutta alta c'è il massimo così fantastico guardate siamo andati giù eh appoggio la cartellina qua siamo eh siamo tre dita tre dita sotto ragazzi bellissimo bellissimo e qua è a filo guarda guarda cameraman vieni a vedere è veramente a filo eh fantastico cioè tu tu vuoi farmi capire vuoi farmi capire che è stato tutto programmato tutto programmato eh sì bravo non passa neanche un foglio di qua bravo bravo bellissimo ottima 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 trasformazione allora aspetta 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 mi interessava vedere il dietro andiamo a vedere dietro della macchina allora questi fanali a led bellissimi di che macchina sono dell'ibisa però il modello dopo ah per cui il modello nuovo esatto li ha adattati bravo 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 qui abbiamo un bombolone bombolone cos'è cos'è è la bombola che tiene l'aria per far andare su e giù la macchina ah ho capito pensavo che ti mettessi tu con un tubicino invece no eh allora ascolta gli amplificatori stag fantastici da quanto da quanto quanto bomba sono 2400 watt l'uno 2400 watt l'uno ragazzi 5.000 guardate che roba ma si sente qualcosa eh è che se alziamo un po' il volume cosa succede ragazzi andiamo andiamo ragazzi andiamo a sentire l'audio allora attenzione ragazzi andiamo a vedere l'interno venite a sentire l'audio pazzesco pazzesco puoi alzare facci sentire fai sentire a tutto il my special car vai allora ragazzi quanti watt ci sono adesso adesso ce ne saranno 8 mila quanto 8 mila 8 mila ma di più 15 mila di più 15 vai 15 mila no facci sentire i 15 mila ci saranno 15 mila watt ragazzi 15 mila watt ottimo 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 allora christian eccoci qui abbiamo presentato la tua bellissima macchina ricordiamo che non si può circolare per strada no per cui è solo uso fieristico la mettete nel carrello di che club fai parte del fashion car ah bello sì ho già visto anche altri ragazzi prima ho intervistato avete macchine tutte spaziali bellissime vuoi ringraziare qualche sponsor qualcuno volevo ringraziare la carrosseria a managazzo naturalmente dove si trova a l'indinara rovigo si si e poi tutti gli amici che mi hanno aiutato in questo con consigli e ok un consiglio ringrazio anche l'amorosa perché se no poi si arrabbia si un grazie alla moglie che mi ha aiutato alla moglie perdonami moglie moglie grazie alla moglie che mi sopporta con questa passione ahimè costosa costosa lo sappiamo va bene allora ci vediamo ai prossimi appuntamenti yortuli.com qui al my special car ciao da pace e da christian grazie a tutti